Ci parli del tuo lavoro in un viaggio in ascensore? Ci provo! Sono Maria Grazia e collaboro allo sviluppo di tecnologie innovative per realizzare il primo impianto industriale che più durrà energia da fusione magnetica. Parlaci un po' del tuo team! Siamo un bel gruppo ed è bello vedere come tante persone collaborano per raggiungere un obiettivo così grande e merizioso. Nel mio lavoro riesco a mettere in pratica tutto quello che ho imparato negli anni a 360 gradi e nel mio piccolo riesco a fare la mia parte. Quali sono i tuoi consigli? Avere una mente aperta ed essere possibili. Porsi sempre domande e non fermarsi mai al primo ostacolo perché dopo tutto nel nostro lavoro dobbiamo fare il salto, dobbiamo creare quel ponte per collegare l'ambito della ricerca a quello industriale. Cosa vuoi fare di grande? Sogno di contribuire nel rendere possibile la fusione magnetica su scala industriale. Sei arrivata! Buon lavoro e buona fusione!